Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha annunciato che Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia presenteranno una controproposta al piano Merkel-Macron. Vogliamo essere solidali con gli stati che sono stati colpiti duramente dalla crisi, ma riteniamo che la strada giusta siano mutui e non contributi. Via libera dell'Ecofin a Sœur, il regime temporaneo che fornirà agli stati membri fino a 100 miliardi di euro di prestiti a condizioni favorevoli per aiutare i lavoratori a mantenere il loro posto di lavoro durante la crisi. Lo strumento è stato adottato nell'ambito del pacchetto di sostegno di emergenza per far affronta l'impatto economico della crisi Covid-19. Sœur consente agli stati membri di chiedere il sostegno finanziario dell'Unione Europea per contribuire al finanziamento degli aumenti repentini e severi della spesa pubblica nazionale a partire dal 1 febbraio 2020, connessi a regime di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, anche per il lavoro a teori autonomi o a determinate misure di carattere sanitario, in particolare sul posto di lavoro, in risposta alla crisi. La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha firmato il decreto ministeriale per dare il via libera all'assunzione di 4.500 insegnanti precari ed occupare i posti liberati lo scorso anno a seguito dei pensionamenti della cosiddetta quota 100. Si chiude finalmente un percorso cominciato in autunno durante l'approvazione in Parlamento del decreto scuola, una battaglia che ho personalmente condotto per rendere giustizia a tutti quegli insegnanti che avevano diritto ad ottenere quei posti, ma non li hanno avuti perché non sono stati resi disponibili per le assunzioni del 2019. Si tratta di docenti che saranno assunti dalle graduatorie a esaurimento e da quelle dei vecchi concorsi ancora vigenti. CGL Fondazione di Vittoria afferma che 6 lavoratori su 10 vogliono proseguire con lo smart working. Il 22% preferisce interrompere questa modalità di lavoro, il 18% è indeciso, le donne sono meno convinte, gli uomini più propensi. Lo smart working è stato un successo per la maggior parte dei lavoratori, un po' meno per le donne che hanno valutato il lavoro da casa più pesante e che ha aggiunto un aumento dei carichi familiari. Prima dell'emergenza Covid in Italia lavoravano da remoto circa 500.000 persone. In queste settimane di lockdown si stimano siano state più di 8 milioni.